La salute mentale è una condizione che riguarda tutti noi e non solo le persone che soffrono di disturbi più o meno gravi. E questo è il messaggio arrivato dalla conferenza organizzata dalla FASM in occasione della giornata nazionale per la salute mentale. Tra i relatori della serata c'erano il dottor Mario Betti e il dottor Roberto Sarlo, responsabile e direttore dell'unità funzionale per la salute mentale adulti dell'azienda USL2. I fattori che minano il nostro benessere psichico sono sempre più numerosi, hanno spiegato gli esperti, dallo stress lavorativo ai problemi economici e per aiutare le persone non è sufficiente il lavoro svolto dai singoli dottori ma è necessario un sistema integrato che sostenga gli uomini e le donne in difficoltà. Per la FASM è stata anche l'occasione per lanciare i prossimi appuntamenti, in particolare quello di giovedì prossimo, 12 dicembre, quando alle ore 21 verrà presentato il libro scritto da Chiara Piletti dedicato ai primi vent'anni di storia dell'associazione.